Nella città di Agropoli si continuano a registrare casi da Covid-19. Questa mattina il primo cittadino Adamo Coppola ha pubblicato sulla pagina Facebook una comunicazione o avuto comunicazione dall'ASL di altri quattro casi di positività al Covid-19 da parte di nostri concittadini che nulla hanno a che fare con altre situazioni di contagio precedenti. Le persone in questione sono in isolamento e si sta provvedendo alla ricostruzione dei contatti. Continua il sindaco, vi informo inoltre che il Covid Hospital di Agropoli, aperto solo ieri, lavora già a pieno regime diversi pazienti provenienti dal Cilento e dal resto della provincia che sono in cura presso il reparto. Un ringraziamento va ai medici, infermieri e a tutti coloro che sono in prima linea per dare risposta all'utenza. In questo particolare momento, oltre alla comunicazione, il sindaco ha pubblicato anche il quadro complessivo della situazione dell'emergenza, ovvero sono in totale i positivi 21, i guariti sono 12 e i nuovi positivi, come già detto, 4.